A Mazzarrono esplode dinanzi la sede del patronato, la Casa del Popolo, che fa capo al movimento braccianti agricole forestali e la protesta di un folto gruppo di braccianti che, alla luce di alcune disposizioni emanate dall'Inps, dovranno restituire all'ente previdenziale somme che oscillano da 2.000 a addirittura 30.000 euro. Io, sottoscritto in guanti Gianluca, sono andato a Caltagirona all'Inps per vedere se le giornate risultavano. L'Inps mi ha detto che non è compito mio andare a vedere se i giornali datori di lavoro li pago o non li paga. A distanza di 10 anni mi annullano 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Secondo loro che lavoro noi abbiamo fatto in questi anni? Come dobbiamo campare alla famiglia? Io ho una moglie e due bambini. Il tutto si registra per effetto della circolare 126 diramata dalle direzioni centrali dell'Inps di Roma il 16 dicembre 2009, che nel trovare la sua efficacia sta adesso mettendo a dura prova la resistenza della manodopera agricola. Stringono, perché non si può con i nostri diritti annullare decenni di contributi. La norma nella sintesi tende a contrastare i fenomeni dei falsi rapporti di lavoro e del lavoro nero, sia in agricoltura sia in altri settori della produttività. Ho quasi 16 anni che lavoro in campagna, alla fine mi sento dire che io ho comprato le giornate che tu non hai lavorato. Andiamo in campagna, sporcatevi di piedi ogni tanto. Dove è il provveditorato del lavoro? Chi ci sta difendendo a noi? Gli ispettori dove stanno? Sieduti nella sedia, a rasparsi scusando la frase. Quando ci sono 45 gradi su TSR, mese di luglio e agosto, e non restiamo da lavorare, dove è l'ispettore dell'Inps? Dove è l'ispettore del lavoro? All'ufficio con l'aria condizionata e dopo dieci anni ne mi accerco i contributi. 23 anni qua, io ho mai capitato a me una cosa del genere. Arrivato da me dall'Inps 11 mila euro da pagare. Perché noi non sappiamo effettivamente perché ci stanno togliendo queste giornate? Cioè l'Inps non ci dice il motivo per il quale ce li toglie. Noi domandiamo solo che l'Inps fa prima gli accertamenti, prima di togliere gli anni. Noi che arriviamo al sindacato e troviamo 5 anni, 10 anni levati di lavoro, quando noi abbiamo lavorato realmente, come fa senza una causa e senza niente? Come ne potiamo a difendere noi? I braccianti agricoli di Mazzarone e di Contro si ritengono penalizzati per via di alcune circostanze che è riconducibile a una presunta e errata interpretazione della circolare Inps, li vede adesso costretti a restituire, somme cospicue. E allora con quello che è successo qua a Mazzarone, che succede? Se c'è la ditta in adambiente o una ditta che nel caso non ha affatto tutti gli adambienti di legge, anziché condannare la ditta, condannano i lavoratori, quindi fanno giustizia sommaria. A che si devono rivolgere? Addirittura se qualcuno dei sindacati confederali, delle altre sindacate neanche le vogliono difendere. A settembre il contorso di tutela sarà...